SUTROL HILFT, Alto Adige Aiuta, è un grande sostegno per tante associazioni beneficiari in tutto l'Alto Adige per tutti i casi che vengono seguiti da loro. Ma in più è un'idea, un'idea di aiutare, di non dimenticare che serve aiuto anche per il prossimo perché da oggi a domani serve spesso poco che potrebbe cambiare tutto e la situazione particolare di Corona ha notevolmente peggiorato il tutto. Lì vogliamo e dobbiamo aiutare, ci serve il vostro aiuto. Dateci una mano, aiutateci ad aiutare. Grazie mille.